L'Aula approva una proposta di risoluzione all'unanimità che si concentra sul dimensionamento della scuola pubblica, un sistema di norme complesso ferma al 2009, quindi sia un implemento dell'organico Covid, no al sovraffollamento delle classi. Ritengo che innanzitutto il primo problema sulla scuola sia quello di arrivare con un'adeguata vaccinazione, per cui noi riapriremo il portale fra pochi giorni e in questo caso metteremo una voce specifica anche per i ragazzi dai 12 ai 16 anni che finora non avevamo mai preventivato nella copertura vaccinale. Naturalmente da un punto di vista oggettivo noi abbiamo da aprire le prenotazioni, ma contemporaneamente le vaccinazioni seguiranno il dopoferragosto, proprio perché i poco più di 100.000 vaccinanti possano essere dal 15 d'agosto all'inizio della scuola, prevista per la seconda settimana di settembre, in grado di essere vaccinati. Devo dire che per quello che riguarda le caratteristiche noi avremo il trasporto pubblico all'80%, questo è l'obiettivo che ci poniamo e avremo la possibilità di offrire proprio in coordinamento con gli uffici del Dipartimento e la pubblica istruzione di livello regionale con i funzionari e delle occasioni di incontro per capire come si prevede di comune accordo di poter procedere nella disposizione logistica delle classi, della composizione all'interno delle scuole, di quelli che sono gli aspetti che garantiscono la prevenzione. La Quinta Commissione ha proposto all'Aula una risoluzione che impegni la Giunta a chiedere al Governo due cose fondamentali. Una è la revisione della norma regolamentare che governa il dimensionamento della scuola, cioè che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni presenti nelle classi, perché questa norma è vecchia ormai di molti anni e l'ultimo aggiornamento risale al 2009 e chiaramente non tiene conto delle necessità di distanziamento tra gli studenti che invece il Covid ci ha imposto e che ha visto la didattica sospendersi quando questo distanziamento non poteva essere garantito. Allora chiediamo che venga rivista questo limite e venga abbassato in modo che le classi siano composte da meno studenti e che si possa garantire la frequenza in presenza in sicurezza. L'altro punto fondamentale nell'attesa che avvenga questa importante modifica normativa è che venga predisposto anche per quest'anno l'organico Covid, cioè un contingente di insegnanti in più che consenta di fare più classi con minore al minore numero di alunni per classe. Questa è una risposta di breve periodo, immediata, chiaramente implica un impegno di risorse importanti per il Ministero di Istruzione, ma crediamo che il bene e il valore della didattica in presenza siano da tutelare e da salvaguardare in ogni modo con la ripresa di settembre. Per questo la Quinta Commissione ha proposto all'Aula, approvandolo all'unanimità, un provvedimento che chieda di attivarsi incisivamente con il Governo per ottenere queste due modifiche. Bisogna lavorare fin da subito per consentire una ripartenza della scuola quando terminerà l'estate, nelle condizioni che mettano veramente i ragazzi di poter lavorare bene, in presenza fare tutte le misure, adottare tutte le misure che consentono soprattutto ai ragazzi di stare in classi, a distanza, avere docenti, un numero congruo, ma soprattutto un atto importante, il nostro, quello che porta all'utilizzo dei tamponi salivari come grande elemento di novità. Il tampone salivare è una cosa semplicissima, basta masticare come fosse una gomma, tempo pochissimi secondi, si ha la risposta, non è invasivo, si può fare anche più volte durante la giornata, si può fare prima di entrare, prima di uscire, ed è un meccanismo semplicissimo. Questo atto è importante e abbiamo chiesto che la Regione Toscana sia apripista su questo percorso, per le scuole, per la didattica in presenza, ma anche per lo sport, per i centri educativi, per i centri di socializzazione, per la ripartenza di un quadro di normalità che quando sarà a settembre ci consentirà ai ragazzi di avere delle opportunità di stare in presenza senza dover sottoporre al tampone o senza fare eccessive livelli di precauzioni, così come avviene di fatto nel mondo dello sport professionistico? Sicuramente sono delle misure che sono utili, ma dobbiamo pensare naturalmente a quello che è poi anche il benessere degli studenti all'interno delle loro aule e credo che sia necessario a questo punto cominciare a pensare anche a delle soluzioni differenti e modulari per gli spazi nel quale i ragazzi vengono accolti. Questo non soltanto nell'ottica dell'emergenza covid e del necessario distanziamento, ma anche per un benessere degli studenti e degli insegnanti all'interno di queste aule e delle scuole. Bisogna dire che la regione toscana da questo punto di vista non è sicuramente ben messa perché abbiamo moltissime scuole, moltissimi istituti che non rispettano nemmeno i requisiti minimi. Si parte da una situazione piuttosto negativa decisamente e sarà necessario quindi un'accelerazione da questo punto di vista perché non credo sia possibile accogliere di nuovo gli studenti in condizioni inadeguate con il nuovo anno scolastico. Studenti che hanno sofferto veramente molto per la didattica a distanza, la mancanza di socialità in questo periodo e il contatto diretto tra di loro e con gli insegnanti. Quindi tornare prima possibile alla didattica in presenza e al 100% e garantire anche la sicurezza deve essere una delle nostre priorità. Rimanendo nel mondo dell'istruzione, l'aula approva con voto unanime una risoluzione presentata dalla Commissione Cultura presieduta da Cristina Giacchi. Atto questo che impegna la Giunta regionale a continuare nel sostegno al sistema regionale toscano degli istituti di specializzazione tecnica post diploma. ITS da considerarsi strumenti essenziali anche per garantire una profiga immissione nel mondo del lavoro. Questa risoluzione nasce da un lavoro lungo fatto dalla Quinta Commissione di un percorso di audizione di tutti i soggetti interessati e di ascolto delle istanze dei territori. La formazione professionale terziaria cosiddetta, cioè di livello superiore paragonabile all'università, ha avuto un forte impulso in questi anni e adesso è in corso una riforma nazionale della legge istitutiva degli ITS e anche un forte incremento dell'investimento in questo settore di formazione che nasce dal PNRR. Quindi con la nostra risoluzione anch'essa approvata all'unanimità abbiamo chiesto all'aula di sollecitare la Giunta nel monitorare l'avanzamento della riforma e nel dare ascolto ai territori toscani, a tutte le province, ai settori industriali perché si dia risposta al bisogno di formazione professionale e di specializzazione professionale con i profili che interessano poi alle imprese che debbono assumere i ragazzi formati. Questa risposta non nasce necessariamente da un aumento delle fondazioni che sono lo strumento giuridico che è adoperato per realizzare questi percorsi formativi ma magari da una loro migliore articolazione e da un aumento dei corsi senza aumento delle fondazioni. Questo starà al Governo e alla Regione deciderlo. Noi chiediamo che questo settore sia tributario di forte attenzione perché ci sembra strategico e buoni risultati ottenuti finora senz'altro da sostenere. Gli ITS sono degli istituti di formazione importante di istruzione secondaria superiore che consentono ai ragazzi una volta usciti dalle scuole superiori di avere un percorso formativo che consente loro di avere anche una specializzazione per entrare subito nel mercato del lavoro, per arrivarci in maniera professionalizzata, per fare anche dei percorsi di crescita personali. Esistono sette fondazioni in Toscana, tante delle risorse comunitarie che verranno investite nei prossimi anni. Noi chiediamo un potenziamento di questo sistema che ha funzionato, che dà delle percentuali di occupazioni altissime, che consente comunque ai ragazzi di continuare a formarsi, di crescere, quindi di avere un processo di cultura costante ma nello stesso tempo interazione pubblico e privato, imprese e Regione per cercare mediante questi processi di formazione di consentire di avere dei percorsi di inserimento lavorativi mirati in base ai settori produttivi che necessitano di formazioni professionali. Quindi è un meccanismo che va incentivato non tanto in termini di numero di fondazioni quanto come numero di attività e di settori che possono appunto dare un percorso formativo importante ai ragazzi. È stato fatto un dibattito anche all'interno della Commissione Europa per quanto riguarda gli istituti tecnici, l'ITS e la formazione professionale. Questa formazione è sicuramente fondamentale ed è necessario improntarla nel modo migliore. Migliore significa che è fondamentale, fondamentale sì, la professionalizzazione specifica per un certo mercato del lavoro che è in continua evoluzione, va ricordato, ma è necessario anche che all'interno di questa formazione le soft skills, quindi quelle capacità trasversali che spesso anche la scuola ordinaria trascura un po' all'interno dei suoi programmi, vengano sviluppate perché saranno fondamentali anche all'interno di un mercato del lavoro che come abbiamo detto è in continua evoluzione ed è necessario anche monitorare la qualità dell'insegnamento che viene appunto esercitato per tramite del lavoro delle fondazioni, quindi è necessario monitorare dal punto di vista economico come vengono spesi queste risorse e la qualità della formazione che viene fatta. Questo è fondamentale non soltanto adesso ma anche per il futuro per modulare meglio l'offerta formativa che viene data. Sono rivolti a ragazzi diplomati fino a 29 anni, sono istituti particolari perché sono specifici delle varie filiere tipo la filiera dell'oro, la filiera della pelletteria, dell'agroalimentare eccetera. In Toscana così come in tutta Italia sono gestiti da fondazioni, fondazioni a cui fanno parte comuni, enti locali, camere di commercio, privati anche che gestiscono questi corsi. C'è in questo momento alla Camera una legge per cambiare un po' qualcosa perché si è visto che in Italia sono poco frequentati. Per farvi un esempio, in Germania sono un milione di ragazzi che li seguono, in Italia 20.000. Quindi si deve cercare in ogni modo di farli conoscere, probabilmente quello che manca è anche un orientamento per i ragazzi delle scuole superiori per far conoscere l'esistenza di questi istituti dove i ragazzi fanno scuola lavoro, quindi gli insegnanti sono per la maggior parte del mondo produttivo, poi ci sono anche insegnanti dell'università eccetera e poi fanno degli stage nelle aziende del territorio. Quindi sono molto importanti proprio perché chi esce da lì all'80-85% trova lavoro. Noi chiediamo con questa proposta di risoluzione che la Regione Toscana continui a incrementare, a dare quanto dava gli altri anni, anche perché nel PNRR ci sono mi sembra 1,6 miliardi a disposizione proprio per questo tipo di istruzione superiore. La consultazione pubblica in vista dei Stati Generali della Salute proseguirà fino al 31 agosto, decisione che deriva dall'alto interesse manifestato finora dai cittadini stakeholders e per allineare la consultazione con l'andamento dell'audizione in commissione. Gli Stati Generali della Sanità sono un momento per noi molto importante, un momento di ascolto, di partecipazione, di confronto. Audite più di 50 persone in commissione, più di 100 contributi ricevuti sul portale. Credo che questa sia buona politica, la buona politica è essere all'altezza degli occhi delle persone, delle loro aspettative. La pandemia ci ha insegnato tanto e credo che l'obiettivo finale debba essere quello di lavorare ad una proposta che guardi alla sanità del futuro, una sanità fatta sempre più di investimenti in tecnologia, di investimenti sul personale, della necessità di integrare sempre di più l'ospedale e il territorio. Noi abbiamo la capacità di sapere che tutt'oggi abbiamo ancora tanto da recuperare con le grandi regioni d'Europa, soprattutto dal punto di vista della capacità di investire sul nostro territorio, oppure non svolgeremmo appieno il nostro compito. Quello che noi vorremmo alla fine di questa grande campagna di ascolto è di valutare nel dettaglio come poter modificare la legge che noi abbiamo approvato ormai quasi cinque anni fa, una legge che deve tener conto delle istanze dei professionisti, degli operatori, ma dei cittadini, con un obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di sapere offrire sempre più lo stesso livello di servizi sia a chi vive nelle grandi città, sia a chi vive nei borghi più periferici della nostra regione. Intorno a questa sfida e alle risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi ci giochiamo un pezzo della sanità del futuro. Il nostro è un messaggio che lanciamo ancora ai toscani e alle toscane. Scriveteci, segnalateci le vostre proposte, noi saremo tutte orecchie. Il primo elemento che abbiamo deciso di fare è prorogare il periodo di apertura del portale perché siamo a oltre 100 contributi e notiamo che la notizia si sta diffondendo tra i professionisti in queste settimane e continuano ad arrivare in questi giorni i contributi, per noi è un elemento importante. Gli elementi che sono venuti fuori dalle tante audizioni fatte sono molteplici. Abbiamo fatto intanto alcuni focus che ci hanno permesso di focalizzare appunto l'attenzione su alcune questioni, sono sulle aree interne, su questo tema di come organizzare la sanità nelle aree marginali della regione, sono venuti fuori dai dati di ARS degli elementi molto significativi anche rispetto al giudizio che normalmente diamo sull'organizzazione del servizio in queste aree. Faremo il 15 un focus sull'emergenza urgenza perché anche questo è uno dei temi caldi, vediamo che mancano professionisti, ci sono modelli disomogenei di organizzazione in Toscana che vorremmo riportare a omogeneità e questo sarà un altro elemento. Il 29 faremo un focus sulla digitalizzazione sia nel senso di come si possono rendere interoperabili e meglio funzionanti i sistemi informativi del sistema sanitario regionale sia su come il digitale cambierà l'organizzazione sanitaria nei prossimi anni, abbiamo chiesto a questo un contributo del MES, dell'ARS e ci permetterà quello di vedere come il sistema nei prossimi anni sarà rivoluzionato e stravolto dal sistema sanitario. Ovviamente poi i temi sono quelli del personale sanitario che è un tema fondamentale, è quello della programmazione fra le aziende, nell'audizione dei direttori è venuta molto chiara questa necessità di una forte programmazione tra i livelli ovviamente di aziende, quindi aziende universitarie, le aziende territoriali e poi il tema del territorio che è l'elemento come sapevamo che viene sempre fuori dalle audizioni dei vari soggetti come elemento sul quale mettere le mani in maniera veloce. Grazie per la visione!